Ciao raga bentornati sul mio canale youtube, ormai ci avviciniamo alla prima VL, siamo sempre più vicini e quindi oggi vi porto un altro tutorial su una nuova meccanica che è stata introdotta quest'anno in live spesso e volentieri state passando e mi state chiedendo come sfruttarla appunto al meglio quindi la andiamo a vedere e si tratta del nuovo tipo di inserimento che si può eseguire andando a schiacciare i due analogici L3 ed R3, io ve la farò vedere sempre in squad battles perché purtroppo non ho avuto la prontezza di registrarmi delle clip in game effettivamente contro avversari tra virgolette umani quando mi è capitato di farlo in live però insomma giusto per farvi capire come si va ad utilizzare e quali sono le porzioni di campo dove potete andarla ad applicare quindi con un rapidissimo e fluidissimo cambio di scena passiamo sulla schermata di gioco dove vedete c'è anche il pad proprio appunto per farvi capire come funziona la cosa ed è molto molto semplice allora voi vi ritrovate praticamente mettiamo caso in possesso palla con Gioao Felix ok state puntando l'area avversaria comunque la metà campo avversaria a un certo punto schiacciate L3 ed R3 ok vedete che appare questo triangolino in testa al giocatore con la durata del selezionamento vedete adesso è terminato non è più selezionato ok perfetto una volta che voi fate questa cosa che cosa acquisite acquisite la facoltà di poter guardate qui passare il pallone continuare a scattare con il passatore di palla e chiavarmi la palla con x o con triangolo a seconda del tipo di passaggio che volete ricevere un po' come se foste su pro club questa cosa qui potete anche farla andando a switchare i giocatori esempio cosa state facendo prendete qui Gioao Felix switchate Gioao Felix inizia a camminare voi iniziate a selezionare quelli che sono i giocatori che volete possano ricevere il passaggio ok quindi vedete qui ad esempio ancora questo Gilbert volete un appoggio su Gioao Felix poi tagliate la corsa di qui magari potete anche riselezionarlo lo fate ripartire mentre quello punta l'area insomma questo è bene o male come funziona di base quando vi consiglio io di utilizzare questa questa dinamica allora io vi consiglio di utilizzarla in quelle che sono queste situazioni di gioco qui quando state praticamente puntando l'area dall'alto verso il basso e perché questo perché potete praticamente creare una situazione di vantaggio numerico perché mettiamo il caso in cui andate a selezionare il buon Rudiaz voi guardate qui mentre quello continua la corsa e magari porta via un uomo potete chiamare la palla mentre state scattando ma lasciate stare che io sto su play in questo momento con una squadra con tutti i bronzini con 30 d'intesa che dormono però vedete qui guardate vedete come si apre il campo e si creano un'infinità di spazi che potete andare a sfruttare un'altra feature interessante che potete sfruttare è anche quando siete più o meno qui all'altezza del centrocampo in una posizione di contropiede se l'avversario sta arretrando con i propri difensori voi avete tutto il tempo di mandare il portatore di palla che continuerà a correre dritto per dritto switchate ad esempio su quello più largo per iniziare ad aprire il campo vedete anche in questa situazione magari buttate lì quello inizia a correre cotonale avete tagliato il campo vi girate e provate a finalizzare poi qui tonali non ha i piedi ed era anche un tiro un po' ambiguo però il senso insomma è quello un'altra situazione nella quale potrebbe essere utile è quando vi ritrovate sull'estrema fascia questo perché ecco qua lo selezionate nuovamente ok la passate al terzino gli fate una sovrapposizione ok per arrivare più facilmente sul fondo e avere magari la visuale di passaggio libera per poter andare a crossare quindi raga prima di staccare voglio farvi vedere la differenza tra quello che è l'inserimento con L3 e R3 e quello che invece si fa con L1 ed R3 e basta ve lo faccio vedere subito qui in pratica questa è un'altra cosa che è stata introdotta quest'anno e si fa andando a controllare il ricevitore di palla il tempo che recupera il pallone perfetto e con Lienard ad esempio fate il passaggio vedete poi schiacciate l'analogico e il vostro gioco ecco qua gli analogici mi prendono una mezza schifezza niente non riesco a farlo partire qui con l'analogico non comprendo per quale motivo comunque con l'analogico R3 dopo aver eseguito il passaggio potete andare a indirizzo ecco vedete qui stava correndo però non so perché non esce la linea sul campo vedete vedete già ho felix io l'ho buttato di là lo vedete dal pad che sto muovendo ora per esempio lo butto giù adesso lo indirizzo verso di lato vedete adesso lo indirizzo verso sotto questo schiacciando semplicemente R3 nella direzione dove volete che vada il vostro giocatore questo qua però io lo trovo meno efficace rispetto all'L3 e R3 perché vi da meno controllo sul giocatore quello lì poi inizia a correre in maniera un po' indefinita mi sembra un po' ambigua come meccanica quindi bene o male la panoramica sul nuovo inserimento è questa qua fatemi sapere se già magari avete provato a masterarla utilizzarla eccetera fatemi sapere se ne eravate a conoscenza mi raccomando mi piace e commenti robe da youtuber che vi ricordo sempre che non so bene a cosa servono ma mi dicono che servono quindi fatelo e nulla io vi do appuntamento lo sapete orientativamente ogni giorno 9 10 e 30 è live fino alle 16 e nulla mi raccomando fate i bravi un salutone ciao ciao